Cosa fate nella vita di tutti i giorni? La studentessa disoccupata, probabilmente. Studentessa di che cosa? Lettere moderne a Milano. E voi cosa fai invece? Io studio all'alberghiero di Casa San Pietro. Perché cosa vi spinge a partecipare a eventi come questo? Perché è divertente, ci piacciono questi personaggi, poi ci fa piacere interpretarli. Esatto. E poi sì, è proprio una cosa divertente, conosci gente nuova, fai esperienze nuove, è bellissimo. Ci fai un sacco di amici che hanno le tue stesse preferenze, idee, insomma. È bello, è divertente. Dove sei? Di Venezia. Cosa fai nella vita? In piedata. Perché partecipi a eventi di questo genere? Per divertimento, perché si incontrano tanti tipi strani. E perché è anche bello impersonare dei personaggi che ami nei cartoni animati. Tu da che cosa sei vestito? Io da Kamina di Uren Lagann. Personaggio di un manga? Personaggio di un anime, è il personaggio principale, però spoiler alert, muore a un certo punto della filmazione. Io sono Catarina, di League of Legends, e sì, insomma, lei è una guerriera. Da dove venite? Da Vicenza. E vi capita spesso di partecipare a eventi come questi? Sì, sì. Cosa vi spinge a travestirvi? Ma, sinceramente, è che siamo così tanto un personaggio che lo si tenta di rappresentare. A me piace tantissimo Mocona e abbiamo provato a umanizzarla, diciamo. È anche la prima volta che proviamo a farlo, quindi questo è un esperimento. Diciamo che è una passione, è un piacere che uno fa, nel senso, lui dice, cavolo, invece che fare la solita vita, magari, non dico monotona, però, casa, lavoro, lavoro, casa, per staccare il weekend, dice, già, voglio, magari mi impersonifico in un personaggio, tipo, che magari mi piace, magari che è più carismatico, magari, posso essere qualcun altro, mettiamola così, è una cosa, magari, invece che magari in molti giorni, magari andare in discoteca o ubriacarmi così, mi riesco a fare questo, ovvio, ci spendo uguale dietro, però, è un po' più salutare, diciamo, mettiamola così. Io sono Clyde e lei è Bonnie, quindi il famoso duo di gangster, Bonnie e Clyde. Cosa fate nella vita di tutti i giorni? Vigilanza. Lavoro in una comunità per risabili. Speriamo che non lo vedano i suoi colleghi, allora. Mi dovrei restare da solo, in teoria. Grazie.